Buongiorno carissimi, oggi comincio più o meno la stessa ora ma in realtà sull'ora annunciata qualche minuto prima perché visto che oggi è l'ultima volta a meno per questo periodo poi chissà cambio idea e tolgo l'abbonamento ma insomma è l'ultima volta in cui lo faccio per tutti e non solo per le persone che hanno deciso di join, di abbonarsi al canale e mi sembra il caso di iniziare un po' diversamente cioè ritornando a una musica che ho usato per un po' di settimane che mi piaceva tanto perché c'ero quando l'han fatto a quella che non mi ricordo come si chiamano, quel flash mob musicale, l'orchestra simfonica di Sabadell sponsorizzata dal caro banco di Sabadell e allora inizierò, metterò una sigla così per fare allegria della flash mob in cui suonano e cantano l'inno alla gioia in piazza Sabadell tanti tanti anni fa, più di una decina, non li ricordo, ho deciso all'ultimo momento di fare questa cosa e poi e poi andiamo su quest'ultima serata che la dedicheremo a una riflessione utilizzando i test di Yuri Mikhailovich Lothman, un semiologo critico letterario russo di una certa fama, oggi è deceduto ma non da molto tempo, chi volesse scoprire i dettagli sul signor Lothman vada su Wikipedia e lo trova abbondantemente spiegato e lo dedicheremo a una piccola riflessione sulla sua teoria di perché si fanno gli intellettuali e io non ho una teoria, a me sembra che tante persone fanno gli intellettuali, poi c'è chi lo fa meglio e chi lo fa peggio, ma insomma leggendola qualche settimana fa mi ha un po' ispirato, mi ha fatto riflettere, se volete in negativo, cioè non concordavo con lui, quindi mi ha fatto riflettere su diversi punti di vista, il punto di vista suo, il punto di vista mio, forse il punto di vista degli altri. Nel frattempo ci ascoltiamo per esattamente quanto? 5 minuti e 19 secondi, quindi se non lo volete ascoltare, volete prendervi un caffè per 5 minuti e 19 secondi, ci sarà la Flash Mob e poi leggiamo assieme Lothman. Grazie a tutti. Eccoci qua, allora, è sempre bella, cosa volete che vi dico? Dovrò trovare una maniera per impedire all'intelligenza artificiale dei vari social di venirmela a contestare e dire che è proprietà di Sony, perché non è proprietà di Sony e poterla anche mettere ogni tanto perché mi piace proprio. Vedo che Simone Micheli mi chiede se so perché è stato scelto come Einole europeo. Allora, perché, perché, boh, non lo so, posso dire perché a me va bene. Allora, questo pezzo sapete già tutti, il testo è una parte della Ode alla gioia di Schiller, il titolo è Andie Freude, ma io non so parlare tedesco, quindi adesso chi sa il tedesco dirà mamma mia, l'ha pronunciato male, sono sicuro, un testo del poeta tedesco Schiller scritto a naso 1780-1790, in un qualche momento in quel decennio. Tra illuminismo e romanticismo e il testo fondamentalmente celebra una cosa che a me prende molto e cioè il fatto che si potrebbe, un'utopia, si potrebbe sì essere tutti fratelli e sorelle, si potrebbe gioire dello stare assieme, del fare cose assieme, scambiarcele, anche litigare ma senza farci del male, litigare può farci la famosa birra o il famoso vino o anche l'acqua, il tè, il caffè, quello che volete voi, anche l'aranciata, la Coca Cola o che ne so, il sidro e questo sarebbe molto gioioso, poi invece poi non succede, quindi questa è l'idea di Schiller, suppongo che, adesso non mi ricordo la storia francamente di come è stata presa, è una cosa molto vecchia, è una cosa che è iniziata quando ero ragazzino, quindi una cosa degli anni 70 poi progressivamente adottata è diventato ufficialmente l'inno della, allora dico le cose che mi ricordo, ovviamente la musica lo sapete è stata composta molti anni dopo, una quarantina d'anni dopo da Beethoven ed è verso la fine, anzi credo è proprio la fine, credo sia il movimento finale della Nona Sinfonia, non so se è la più bella di Beethoven, probabilmente è la più conosciuta anche se forse l'ouverture della quinta, l'apertura della quinta sinfonia è più nota, però forse la Nona credo che sia la più ascoltata, boh non lo so, parlo per me stesso, non c'è niente di studiato di certo, in tutto questo celebra questo sogno, questa cosa che si prova a fare, provando e riprovando sbagliando, tornando indietro, poi ricominciando da capo, di far sì che le donne e gli uomini del mondo collaborino, competino, gareggino, si uniscono e si mollino, ma in una qualche forma di fratellanza, senza farsi particolarmente del male, notoriamente un'utopia, ma va bene, un'utopia se volete gentile, si bravo Blue Marble, Blue Marble mi risveglia, una notizia credo che Foncaria, che era un uomo, discusso, mai capito, dovrò chiedere a Adriano, Adriano sa molto di più di Foncaria, Adriano era molto amico di Claudio Abbato, quindi forse sa molto di più di musica classica di quanto sappia io, magari quando ci vediamo domani, sabato, Adriano e io abbiamo un appuntamento alle 5 e mezza qui sul canale YouTube mio e parleremo di nuova letteratura, anzi parleremo quasi solo di Musil, così mi ha detto Adriano, che è a Venezia, anzi a Lido, a Malamocco e mi ha detto leggerò, rileggerò e quindi domani mattina mia alle 10 e mezza, pomeriggio vostro alle 5 e mezza di oggi per voi, perché è sabato da voi, con Adriano torneremo un po' a Musil e lascerò parlare Adriano che ama molto Musil, io ho un rapporto conflittuale con Musil, quindi Musil, lo dico all'italiana e niente, parleremo di questo, approfitterò per chiedere a Adriano qualche opinione su Foncaria, anche era un uomo che notoriamente aveva avuto qualche simpatia nazista, poi sì, credo che partecipò alle registrazioni di questo e che forse, come dice Blue Marble, fu lui a proporre in qualche maniera di adottare il movimento finale di Beethoven, che effettivamente è bellissimo. Poi questa particolare esecuzione, questa flash mob in terra catalana, al di là delle faccende personali, che però è un puro caso della vita, avvenne giusto in un periodo in cui avevo qualcosa a che fare con chi lo fece e lo finanziò, e anche riesce a darti l'idea di quello che sia la musica che il testo vogliono dirti, cioè persone semplici, il direttore con la maglietta a righe, bruttina tra l'altro, anche io una volta portavo magliette a righe così, sono in un certo periodo, poi mi è stato vietato, le ho buttate, e questa gente normale, i bambini, i signori, le famiglie, le anziani che applaudono in questa piazza semplice, insomma da proprio l'idea di gente normale, senza troppe pretese, che fa cose grandi, sono attori musicisti che si raccolgono e mano a mano escono, l'edificio a cui escono è la vecchia sede della banca, avete che a un certo punto escono dalla porta svariati questi gruppi e vanno a suonare. Ecco, ce ne sono forse di più monumentali, più grandiose, ma questa mi sembra un po' riprendere bene l'idea mitica, se volete, che sia il testo di Schiller sia la musica di Beethoven vogliono darci. Detto questo, un paio di annunci, questa è l'ultima volta che faccio questo mio esperimento, alcuni mi hanno criticato, non tanti, io capisco, alcuni mi hanno dato suggerimenti come fare soldi in rete in maniera più sofisticata, io vi ringrazio, già fare questo per me è stato un po' fare una cosa a cui ho dovuto superare l'imbarazzo, per cui magari le cose più sofisticate le farò in un altro momento. Qualcuno mi ha suggerito di mettere l'abbonamento anche su Twitch, in modo da tenerlo aperto su Twitch, magari lo farò, però Twitch mi sembra ancora più, tassa ancora di più di YouTube, più costoso di YouTube, per cui non so se vale la pena. Magari, vediamo, se c'è una domanda su Twitch, lo faremo anche su Twitch. Ecco, Blue Marble sa parecchio, fu annullato il concorso indetto nel 71 per la proposta di Von Karajan e lo incise con la filamone di Berlino, beh certo. Bene, dopo andrò a vedere i dettagli, ma comunque la storia più o meno è questa, 71, bravissimo, non mi ricordo perché ero al liceo, quindi sì, quegli anni lì, inizio anni 70 e poi progressivamente, ma sono sicuro che se cercate su Wikipedia in rete c'è la storia completa di come venne progressivamente adottato. Quindi dicevo, le regole un po' per il mio canale saranno le seguenti, insomma le motivazioni per cui l'ho fatto ve le ho dette e per poter continuare a farlo sentendomi, oggi l'ho detto in un commento, in una risposta a un commento molto gentile, ma cosa volete, anche io i miei doveri, alla fine ho fatto una carriera, una vita, un lavoro, ho scelto di fare un lavoro a un certo punto per mille ragioni, prima la politica, poi la stanchezza con la ricerca, poi la voglia di fare altre cose, anche i cambiamenti di vita, il ritorno più frequente in Italia per ragioni mie personali e sentimentali. E poi una cosa o l'altra, dal 17, 18 circa, questo coinvolgimento su YouTube che mi ha dato l'opportunità di incontrare tanta gente nuova, di esprimere in una maniera diversa da quella che mi esprimevo prima con le formule e i paper complicati. Non mi è andata via la passione, ho semplicemente capito forse, ed è una cosa su cui vorrei anche questa scrivere, che molte delle cose che scriviamo, proprio ieri sera se ne discuteva, c'era una piccola conferenza oggi qua a St. Louis, all'università organizzata, il mio dipartimento, da alcuni colleghi, e ieri sera si discuteva con alcuni colleghi più giovani che concordavano, pubblichiamo una quantità enorme di cose che producono una quantità enorme di rumore nel campo economico sociale, tre quarti sono sbagliate, fatte male, io forse perché ho raggiunto la sicurezza ho deciso che solo se ho delle cose importanti, le trasformo in un paper, se ho semplicemente delle mezze idee, me le tengo, o al più ve le racconto, magari non sono giuste, e sto divagando. Comunque il problema è che poi stando in questa maniera, in comunicazione con altre persone, facendo le mie riflessioni e quelle di altre, confrontandomi, discutendo, cercando di capire, ho progressivamente abbandonato una serie di lavori e di cose che ero solito fare e che facevano parte anche del mio reddito, obiettivamente, della maniera in cui mi prendo cura di me stesso e anche di chi mi è caro, ho anch'io i miei doveri verso delle persone, proprio doveri, nel senso stretto. Doveri graditi, non sono doveri imposti, sono doveri graditi, ma sono comunque doveri, e nel rendermi conto negli ultimi due anni che mi stavo privando di parecchie occasioni di lavoro, mi sono sentito in dovere verso me stesso e gli altri di compensare. Ora non so quanto questa cosa compenserà, magari non compenserà, e se non compensa, ma non è un ricatto, credetemi, se non compensa dovrò decidere di fare altre cose, di dare meno tempo a questi eventi pubblici, a questa presenza nei social e a pensare più al mio lavoro, alla mia capacità di generare reddito, che obiettivamente, serie di fortune era anche notevole. Insomma, vediamo come va. Diciamo che è un compromesso, ho deciso di fare un compromesso tra l'elemento lavoro e l'elemento interazione sociale, tra Liberi oltre YouTube, testi divulgativi, eccetera, è diventata anche un po' una passione, devo rendere questa passione compatibile con… Allora, cerchiamo di non creare confusione, sto benissimo, semplicemente credo che sia una soluzione adeguata, la generosità a un certo punto, ha dei limiti e ti senti un po' sciocco nel fare tutto puramente a base di generosità. Sentite, non elaboriamo troppo su questa cosa qua, perché io faccio molta, per una forma mia di pudicizia, ma non mi va più di tanto di parlare. Ho preso questa decisione, la faccio, vediamo, a me sembra che quello che chiedo sia minuscolo, se la persona interessa, interessa, se la persona non interessa, non interessa, fine, va bellissimo, viviamo tutti lo stesso tranquilli, quindi va benissimo, va tutto benissimo. Questa è la cosa, quindi domani facciamo pausa e ci rivediamo lunedì per gli abbonati e poi vedremo come evolve, prenderemo delle decisioni, magari evolve e se è successo facciamo delle cose più interessanti sul canale, coinvolgo qualcun altro, facciamo delle cose più interessanti e diverse, magari non funziona, allora lasciamo stare e va bene lo stesso. Quindi non facciamo la più grande di quella che è, perché ho stasera anche lasciato una luce enorme accesa che mi sta scaldando la testa. Bene, veniamo a quello di cui, oddio, non so Morizio Toscano se un totale di 40 euro all'anno vuoi scaricarlo alle tasse, ma comunque, senz'altro sono contenuti informazioni. Allora, dicevo, mi aveva colpito tempo fa, come vi ho detto, nell'ultimo anno causa ovviamente dell'invasione russa e l'Ucraina, sono ritornato a cose che avevo letto molto da giovane, ovviamente è stata una fase in cui la Russia, l'Unione Sovietica, ho cercato di capire cos'era questa roba del comunismo sovietico, chi mi segue nei colloqui con Adriano, specialmente quelli iniziali capirà perché siamo stati giovani in una certa fase della storia europea e abbiamo dovuto capire cos'era. Benvenuto Ugo Garbardella, devo dirlo, sta diventando un amico di posta per il momento, sta diventando un amico. E quindi in quella fase cerchiamo di capire cos'era l'URSS, cos'era il comunismo, cos'era la storia della russa, cos'era Lenin, cos'era Stalin, eccetera, eccetera. E poi quindi, cercando di metterla in prospettiva, si studiò un po' il prima e il dopo, però non abbastanza. Poi te lo dimentichi che devi studiare altre cose, è una certa idea. Hai letto da tardo adolescente, tra i 16 e i 20, Dostoevsky, Tolstoy, Gogol. Puskin no, Puskin mai sopportato, devo dire, non ho la sensibilità poetica sufficiente per apprezzare Puskin. Turgenev molto di più. Poi Bulgakov, eccetera. Poi torni, insomma quest'anno sono tornato a rileggere molto di storia e letteratura russa. A proposito, l'altro giorno avevo detto, magari vi leggo un paio di poesie di Anna Akhmatova, e sciocco che sono, sono andato a prendermi il testo delle poesie di Akhmatova nella mia libreria, ma sono tradotte in inglese e quindi no, mi sembra caso di mettermi a leggere, una traduzione in inglese di una poetessa russa a degli italiani. Francamente no. E quindi rimandiamo la buona Akhmatova, donna interessante e complicata, di cui ho scoperto poi relazioni. Ecco, una cosa che scopri studiando la storia della cultura russa degli ultimi due secoli è che è veramente un pollaio aristocratico, con ben poche, ben pochissime entrate da fuori, che spiega anche quello molto del mondo russo e dell'elite russo. Quindi niente Akhmatova perché mi pare un po' assurdo appunto leggere in traduzione inglese una poetessa russa a degli ascoltatori italiani che vorrebbero sentire l'italiano. Un eccesso di polifonie linguistiche. E allora niente, uno dei libri che ho letto che mi è molto piaciuto, perché questo uomo scriveva e parlava, sono le messe in scritto di conversazioni radio-televisive di Yuri Mikhailovich Lutman. Di nuovo, se andate su Wikipedia trovate la storia di questo signore, ovviamente ebreo, russo, anche lui parte del movimento bolshevico, più giovane ovviamente, perché nacque, che la rivoluzione era già fatta, comunque partecipò alla guerra e poi discriminato in quanto ebreo, a un certo punto se ne andò, prima in Estonia e poi altrove, e divenne uno dei leader. Morì tardi negli anni 90 e divenne uno dei leader della scuola semiotica. Anche la semiotica o la semiologia sono passioni tardi anni del liceo, primi anni dell'università, ma anche su quello eviterò di dilungarmi. E comunque non avevo mai letto queste sue conversazioni sulla cultura russa, sono svariati cicli di lezioni. In questo, che è la quinta lezione, credo, del terzo ciclo, cultura e intellettualità fatte nel 1989, lezione numero 5. Riprendiamo il nostro discorso. La volta scorsa abbiamo visto come nel diciottesimo secolo abbiamo cominciato a formarsi in Russia l'intelligenza. Ecco, qui prima nota una cosa interessante che l'intelligenza prima non c'è. Il mondo russo è un mondo a-intellettuale, non anti, ma a-intellettuale nel senso nostro, nel senso occidentale, moderno di adesso, di cos'è l'intellettuale. C'è un enorme popolo, un mondo feudale, con un'aristocrazia e soprattutto una corte imperiale zarista molto forte che domina tutto e poca vita intellettuale. Da un certo punto, a partire soprattutto da Pietro I, il Grande, c'è questo slancio verso l'Europa, di imitare l'Europa, soprattutto la Francia. La Francia e la Russia ha un rapporto, almeno in quei due secoli di odio e amore, che si conclude con l'odio e la rivarsa dopo la sconfitta di… dopo la vittoria di Napoleone. Napoleone vince la guerra, occupa Mosca, come sapete, loro decidono di compiere questo grande gesto di distruggere Mosca pur di fare deserto freddo attorno a Napoleone. Napoleone si trova che ha preso Mosca, ma non rimane niente di Mosca. Quando arriva l'inverno in una città distrutta, letteralmente distrutta dal fuoco, totalmente distrutta, si è rimasto in piedi il 10%, senza vettovaglia e senza niente, costretto dalla logistica una volta ancora, distrutto dalla logistica e dal clima, è costretto alla famosa ritirata e tutto quel tempo. E da lì crolla l'amore russo per l'intelligenza francese e inizia un'altra storia che guarderemo un'altra volta, magari con qualcuno più ferrato e più preparato di me, che sono queste cose a pezzi e boccone. E allora lui dice che è nata l'intelligenza e si pone il problema di perché nascono gli intellettuali. Mi voglio chiedere cosa determina il carattere di quella che abbiamo definito intellettualità. E da uomo russo, cresciuto agli anni 20, 30, 40, alla fine degli anni 80, dice un elemento fondamentale a tale proposito è il senso di come. Quando parliamo dell'intellettualità e del suo contrario, non bisogna tralasciare questo aspetto psicologico. L'intellettualità presuppone un senso di colpa alquanto sviluppato, mentre l'assenza di intellettualità ha una propensione altrettanto marcata alla sfrontatezza. ecco, io quando ho detto che si parla ho detto, bah, è proprio vero. Allora, da un lato io, diciottenne, rimasi, devo dire, folgorato, perché anche io pensavo a quel tempo che l'intellettuale fosse il poeta, lo scrittore di romanzi, il musicista, forse, il pittore, il filosofo, il critico letterario. L'intellettuale era l'umanista, già quello che, che era quello che volevo fare, io volevo fare, il filosofo, volevo studiare linguistica, era la mia passione. Poi leggendo Gramsci, c'è dei pezzi proprio su Intulai, quindi dice, ma guardate, gli intellettuali sono quelli che usano soprattutto la mente, il pensiero, l'elaborazione di idee, i concetti per produrre valore, per fare cose, per guadagnarsi da vita. E quindi con grande materialismo, grande acutezza, per carità, l'avrà detto milioni di altre volte prima, poi scoprì che c'era in Weber, che aveva scritto prima di Gramsci questa cosa, ma era un ragazzino mestrino, ignorante, avevo 18 anni, mi leggevo i quaderni, quello sapevo, no? La mia visione dell'intellettuale era che l'intellettuale era Contini, era Pirandello, era Hegel, Croce. Gramsci dice, gli intellettuali, sono anche gli ingegneri, gli intellettuali, sono anche i geometri, gli intellettuali sono anche chimici, fisici, matematici, giornalisti, tutti coloro i quali, per la maggior parte della loro attività sociale, usano la brutta forza, certo usano ovviamente le mani, i piedi, le gambe, la bocca, i denti, ma il loro, diciamo così, valore aggiunto sociale dipende fondamentalmente dall'utilizzo di facoltà cerebrali, conoscenze di un tipo del mondo. E quindi dice, tante persone sono intellettuali, la vita intellettuale è molto composita, va per gradi, va per tonalità, va per livelli e va per settore. Ecco, questo è rimasta la mia concezione dell'intellettuale, quindi nel leggere queste parole di Lothman sono rimasto, paesi settimane fa, colpito, perché questo alla fine degli anni 80, quindi nel 1990, chiaramente quando parla dell'intellettuale parla del poeta, dello scrittore, del filosofo, ed ha una certa visione dell'intellettuale, che è in realtà ancora quella dominante, cioè l'intellettuale è appunto il filosofo. Boldrin non è un intellettuale, men che meno Andrea Giuricin, o Carlo Stagnaro, o Costantino de Blasi, per restare nel mondo nostro, dei nostri amici, no? Ecco, Adriano è più un intellettuale perché per caso Adriano ha fatto il filosofo, ma Marco Cantamessa, che è un grande ingegnere, non lo viene visto come intellettuale, invece dal mio punto di vista Marco Cantamessa è tanto intellettuale quanto Michele Boldrini, o quanto Adriano Palma, con tutto l'amore che voglio ad Adriano. Essere intellettuale non è che sia una specie di badge of honor, è una roba che fai, punto, né più buona né più brutta di altra. Io finché studiavo per fare l'intellettuale facevo lo scaricatore di porto o anche lo sguattero da Rosa Salva a Venezia, quindi ho un apprendista, quelli che hanno prima metallurgico, geeky, poi chimico, in fabbrichette di Marghera. E invece no, per l'ottomano ha in mente, che so, Sartre, ha in mente la canna, quindi ho in mente gli intellettuali russi, per i quali, a suo avviso, conta il senso di cui. E lì io proprio non mi trovo. Per quelli che io considero intellettuali, la grande maggioranza, il senso di colpa non l'ho trovato. In me ho trovato la voglia, la passione, la gioia, la curiosità. Gli esseri intellettuali con cui mi relaziono, mi sono relazionato nella mia vita, se devo trovargli un tratto comune nell'enorme varietà di caratteri, personalità, psicologici, caratteristiche, e che erano tipi curiosi, che facevano domande, che si incuriosivano anche delle cose più strane. Questo per me era intellettuale, la colpa poco. Invece per l'ottomano ha la colpa. L'altra parte, la seconda parte della frase, che dice l'assenza di intellettualità, a suo avviso è dovuta a una propensione altrettanto marcata, alla sfrontatezza. E lì, sì, chi mi segue delle volte sa che io uso queste parole forti, a molti do dell'arrogante, anche qua, no? Molte volte mi è capitato di dare dell'arrogante. A persone che fanno affermazioni roboanti, senza alcuna base, quando gli chiedi di giustificarle scappano, non sono in grado, tipicamente appunto fanno gli anormi. Però lo dicono con una totale sfrontatezza, non le difendono, le ripetono. Non le difendono nel senso che non le argomentano, non le spiegano, non le condividono, non ci dicono come sono arrivati a quel punto di vista. Però ce le sbattono addosso. Quindi su quella parte mi sono trovato. L'antitellettuale è uno sfrontato, un arrogante. Uno che vuole dire del mondo senza aver pensato al mondo, senza aver fatto la fatica di riflettere sul mondo, di interrogarsi, di mettersi in discussione, di andare a cercare le spiegazioni del mondo. Mentre a mio avviso l'intellettuale che ho conosciuto è uno curioso, curioso, che infatti è anche dubbioso, sicuro di sé temporalmente quando un argomento che fila, ma pronto a mettere in discussione quell'argomento, se a quell'argomento gliene viene offerto uno migliore. Da qui l'importanza della discussione. Per l'Hotman no, c'è la colpa. Infatti dice per gli individui intellettuali, qui ci ho messo proprio un punto esclamativo, per natura il fattore psicologico che regola le loro azioni è la vergogna, mentre per coloro che non provano vergogna è piuttosto la paura. Non lo faccio perché ho paura. Allora aspetta, a parte che si, qui comincia a far confusione. No? Però è sempre questi due aspetti che uno sono d'accordo e l'altro no. Io non provo alcuna vergogna. Che vergogna provi? Non credo che Adriano provi. Nessun amico interesse. David non prova vergogna. David è curiosissimo. Vittorio, Emanuele, Parci. Io sono per parlare di gente nel nostro giro, questi che ci troviamo su YouTube, ma potrei citarne altri, ma sarebbero nomi per la maggior parte sconosciuti. Non trovo David che sia uno che si vergogna. Ehi là, carissima Lena, benvenuta. Lena, ti devo scrivere, che così sistemiamo questa roba dell'abbonamento. Sì, ma Sowell, Easy Fencing sì, però Thomas Sowell, un giorno parliamo di Thomas Sowell, che è un uomo brillante, ma che, ecco, lui è motivato non dalla vergogna, non dalla paura, ma dall'astio. Thomas Sowell prova astio. E quindi, a volte lo seguo e lo capisco, parte del suo astio, del suo fastidio, lo capisco, però che sia l'unica cosa che lo motiva, anche no, anche no. Di nuovo, in questa frase, è interessante, chiaramente lo trova in mente l'intellettuale russo, ha in mente l'intellettuale russo dell'inizio ottocento, fine settecento, inizio ottocento. A questo lo provano vergogna, perché? Provano vergogna perché la loro estrazione sociale è aristocratica. Poi se adesso avessi tempo, che non posso, vi invito a leggere queste cose, se lo seguite nel corso del resto del libro, la capita dove viene la vergogna, che fondamentalmente viene dal fatto di essere tutti illuministi, poi romantici, poi a favore della libertà, dell'emancipazione dei servi, di questo e di quello, e di non riuscire mai a realizzarlo, perché? Perché alla fine sono degli aristocratici nobili, sono al servizio dello zar e cedono regolarmente. I pochi che simulano, i pochi che rischiano, che tra l'altro pochi intellettuali, nel senso di Lottman, cioè di poeti, scrittori, molti intellettuali veri, nel senso di ufficiali, i famosi decapristi o decembristi dell'insurrezione decembrista a post-napoleonica con Alessandro Credo II, questi sono degli intellettuali, nel senso gramsciano, che però non è che scrivono poesie e infatti finiscono tutti in esilio o ammazzati. Mentre l'intellettuale classico russo, ed è questo che Lottman ci sta dicendo, fa quello che fa, scrive quello che scrive perché prova vergogna. Vergogna per la sua condizione sociale nei confronti del resto del popolo che è attorno. Perché di quel popolo che è attorno, di cui declama le lodi, di cui racconta la purezza, la bellezza con cui si vuole immergere, specialmente nella fase post-generazione del 1812, la fase post-napoleonica, chiedendo libertà, chiedendo l'abolizione della servitù della gleba, che arrivano solo nel 1861. Pensate un po', l'anno in cui Savoia dichiara unificata l'Italia è l'anno in cui finalmente, formalmente e non sostanzialmente, la servitù della gleba medievale viene abolita in Russia. Vi ricordate la conversazione dell'altro giorno, dove ho detto le distanze secolari nei cambiamenti di norme, di culture, di istituzioni, contano e 4, 5, 6, 7 secoli contano, distanza nella capacità poi degli ex serviti della gleba russi di sentirsi cittadini. Ecco, niente, infatti che dice poi Lottman? Dice al contrario, molto spesso chi viene dal popolo si fa avanti con un lungo elenco di richieste, e anche qui acuto, proprio nella conversazione di ieri parlando della fogna sovranista ho osservato che molti si arrogano il nome popolo, il titolo di essere il popolo, e tipicamente sono persone di estrazione, piccolo borghese, lumpenproletta, diventano il popolo. E si fanno avanti infatti con un lungo elenco di richieste, di lamenti. Non mi hanno dato questo e quindi me lo prenderò da solo, lo terrò, lo strapperò, eliminando qualsiasi ostacolo possa trovare sul mio cammino. Perfetto, sembra la descrizione del tipo di persone di cui parlavamo ieri, raccontando questo episodio un po' triste, ma molto rivelatore, del dibattito a cui il nostro amico Costa è andato subì. O blu è l'atteggiamento di questo. Quindi quella descrizione del resto che fa Lottman ci tiene, però quando poi la mappiamo quella descrizione nel mondo nostro, europeo, di adesso ma anche di cento anni fa, ci rendiamo conto che quello che descrive come popolo, lui è il 95%, la popolazione in realtà è l'atteggiamento di una minoranza che noi consideriamo estremista, delleitaria, stracciona e così via, che chiede solo e non fa e non produce. Dall'altro lato ci sono gli intellettuali e lui infatti dice al contrario, l'intellettuale è nato in una famiglia nobile, l'intellettuale russo praticamente fino all'altro giorno, Akhmatova compresa, anche Akhmatova è la famiglia nobile, è incredibile praticamente quasi tutti, è abituato a riflettere spesso fin dalla sua piatenera infanzia, qui c'è tutto un pezzo bellissimo che viene dopo, non ve lo posso raccontare, sulla cultura del fanciullo, sulla relazione fra il fanciullo e i servi nelle famiglie nobili, l'intellettuale russo fanciullo cresce fra i servi della casa, in quanto fanciullo è stromesso dalla vita degli adulti nobili e deve quindi crescere dopo una certa fase, inizia l'ottocento, metà dell'ottocento con i servi, con l'enorme servitù povera della famiglia nobile e quindi stabilisce con loro Erzen, e questo lo sapevo perché Erzen l'avevo letto, bisogna leggere questo, sviluppa con loro una forma di affetto, di identificazione, di compassione che poi lo rende dove l'Italia un rivoluzionario, in Erzen questo è chiarissimo, e quindi questa nota spesso fin dalla piatenera infanzia riflette un fatto storico, vero, della formazione dell'intelligenza russo, che però noi non condividiamo, che però nella nostra intelligenza anche quella umanistica, men che meno che l'ingegnerista condivide, e quindi lui dice, ripeto, al contrario l'intellettuale è nato in una famiglia nobile e abituato a riflettere sul fatto che si sta approfittando di ciò a cui non ha diritto e che questo è ingiusto, e allora comincia a vergognarsi, il senso di colpo ha influito su molte cose come è evidente, ha determinato per esempio il coraggio di chi andava incontro alla morte, quindi è bellissimo. L'Hotman qui ti descrive una certa forma di intelligenza che c'è, minoritaria ma dominante nel campo letterario in Europa, dell'intellettuale alto-borghese, aristocratico, fondamentalmente benestante, che noi poi chiamiamo in realtà radical chic. Radical chic è molto bello, perché la vergogna dell'intellettuale di cui parla Lottman è la vergogna dell'alto-borghese che fa il filosofo e vuole la rivoluzione ista, non importa perché poi tre volte se è gentile diventa la rivoluzione fascista, se quell'altro diventa quella comunista o anarchista, non importa. Il punto è che lui coglie un aspetto che è di un segmento di intellettuali che però sono diventati quelli di moda. E può diventare anche l'odio. Proprio ieri ho dovuto dire a un caro amico che magari ci segue, forse è qui, smettila di leggere Selin. Selin scriverà anche bene, ma pensa male. Selin è solo un'escrescenza casualmente bella dal punto di vista estetico profondamente malata e odiosa e soprattutto è una macchina celibe, non produce niente, non c'è vita in Selin, c'è solo astio, odio, desiderio di rivalsa, c'è una vita fallita, una mente fallita che compone belle frasi, sì però non c'è propulsione, non c'è positività in Selin. Selin va letto leggermente in tarda età per ragioni estetiche e poi va buttato proprio buttato, ha buttato via il libro. Voi non ci crederete, ma io l'ho buttato. Niente, un ultimo elemento che invece poi ti ritrovi, perché è molto divertente vedere come i pro e i contro entrano ed escono e come le caratteri, le personalità, le storie intellettuali si mischino, si finiscono. Potrei andare avanti di più stasera. Mi sa che posso andare avanti di più, perché oggi è sabato, quindi la rassegna stampa su Liberi Oltre inizia a... Giacomo Girolimetto, stai leggendosi lì e sottoscrivi. Ecco, buttalo via dopo però, dopo averti goduto la bellezza dello scrivere, buttalo, perché è castrato. È una machine celibataire, come la chiamavano, credo, delle segatari nell'anti-edipo. È una macchina impotente, potente, capace solo di girare su se stessa a carica di odio rivali. In caso, non psicanalitico, ma psichiatra. Visto che un po' più di tempo mi dilungo, perché l'argomento mi diverte. Poi dice, come vedremo, si tratta di una caratteristica psicologica fondamentale che in seguito passerà in eredità anche all'intelligenza non aristocratica. Occhio, signor Lottman, all'intelligenza non aristocratica forse russa, perché per quanto mi riguarda e per quanto riguarda ai miei amici intellettuali, specialmente anglosassoni, ma anche europei del secolo XX, no, trasformandosi questo senso di vergogna in un elemento fondamentale dell'intellettualità. La cosa divertente è che poi, invece, se ne esce con una frase che ti lascia perplesso, perché lui da questa vergogna, da questo senso di colpa, estrae un altro effetto. Dice, e cioè una propensione spiccata all'autocritica, un profondo senso del dovere, l'esigenza di fare tutto ciò che occorre per estinguere il debito contratto. Però poi all'improvviso penso agli intellettuali italiani che oggi vanno in televisione, anche quelli di trent'anni fa. Io il senso dell'autocritica non lo trovo. E men che meno incontro il senso del dovere, anzi incontro un'enorme disponibilità all'asservimento, al seguire le mode, all'adattarsi, andare a fare i pagliacci appunto in televisione. E' altro che autocritica. E quindi è bello come lui vede alcuni, un pezzo di intelligenza russa, solgenizi, no? Per dire, o saccaro, che si sacrificano e combattono. Se penso a quel pezzo di intelligenza occidentale, di origine aristocratico, sì, sì, Sabatini e Marco, sono d'accordo, per quello odiava Proust, perché Proust le faceva più belle le descrizioni, però Proust non era incazzato col mondo. Comunque però sono d'accordo, fa delle stupende descrizioni. Però pensate anche a questi dettagli, no? In Lothman che guarda una certa fetta dell'intelligenza al suo paese, questo senso di vergogna e di colpa, poi per coerenza si trasforma non tanto e non solo in critica del sistema esistente, ma si trasforma anche in autocritica di se stesse. E quindi il desiderio di espiare che porta fino al coraggio e sacrificio. Cosa che se noi guardiamo al lato europeo, ne vediamo alcuni, ma ne vediamo ben pochi. Allora se penso a uno che si sacrifica, però chiaramente non provava alcun senso di colpa, anzi, ecco a me viene in mente una persona che forse alcuni di voi conosceranno, altri no. Mi piacerebbe che il mio amico, di cui nome non dirò, ma teologo di cui ho grande amore e stima un giorno ne volesse parlare con me, Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer, un pastore protestante tedesco che lui si simulò, ma non credo per senso di colpa, solo per senso di testimonianza a fronte della violenza nazista. Però lui invece ha in mente il sacrificio dell'intellettuale russo che invece si sacrifica. Quanti dei nostri intellettuali, anche solo nel secondo dopoguerra, si sono davvero sacrificati? E quanti degli intellettuali italiani degli anni 20-30 di fronte all'orrore fascista si sono sacrificati? E quanti degli intellettuali, se volete tedeschi o francesi, si sono sacrificati di fronte a Vichy di fronte a Iper? La risposta è pochissimi, pochissimi, delle assolute eccezioni. Chi ha fatto il meglio è fuggito in esilio. Niente, vi sto buttando queste cose, perché capite, vedete un po' le similitudini e le contraddizioni. Poi è molto bello, perché c'è una fascinazione, c'è poco da fare, l'intellettuale russo e l'Hotman è un intellettuale russo, non riesce ad accettare che i loro cosiddetti sovrani illuministi, tali non fossero, e cioè che fossero fondamentalmente dei potenti, superpotenti aristocratici semidei che si intrattenevano con l'idea di essere illuministi perché era di moda, perché era molto figo, perché fra grandi fighi dovevi, come dire, intrattenerti con l'idea degli altri grandi fighi del tempo, che erano i francesi, i filosofi francesi dell'illuminismo, ma che per loro questa cosa fosse un gioco, non fosse la verità. No, l'intellettuale russo ha bisogno di credere che Catarina II, per esempio, volesse davvero l'europizzazione, come la chiamavano nella Russia. Quindi ci scrive, lo stile di vita europeo aveva preso ormai piede ed era evidente che il paese non rimaneva fermo. Sbaglia, lo stile di vita europeo aveva preso piede formalmente nelle sale da ballo dell'aristocrazia di San Pietroburgo. Credere che Catarina II, Alessandro Primo, o perfino Nicola Primo, terribile, Zarreazionale, non pensassero ad altro che a sfruttare e opprimere i loro sudditi, sì, significa semplificare di molto la faccenda, ma non lo so, tutto quello che ho letto dei tre mi fa pensare che decisamente sì. Poi, l'ultima cosa che mi sono letto è una roba lunghissima, divertentissima, eccessiva, non ve la raccomando, sono 600 pagine, la storia d'amore fra Potemkin e Catarina II, a me sembra che l'unica cosa che volessero fare i due fosse, farsi i cazzi di loro, sfruttare i loro sudditi. Della questione della servitù della gleba, pensate, per esempio, si erano occupati, certo che si erano occupati, sia Caterina II, sia Alessandro Primo, sia Nicola Primo, perché sapevano benissimo che occorreva risolvere il tale problema. E tutti volevano introdurre delle riforme, grandi riforme, ma poi, immancabilmente, non ne veniva fuori niente. E qui è bello, perché anche un grande intellettuale come Lockman si ferma davanti a realtà, se no ne veniva fuori niente, in un mondo in cui costoro decidevano della vita e della morte, non dei servizi solo, ma dei loro assistenti di stanza, ma dei loro generali, ma dei loro cortieri. Come? Che la servitù della gleba fu necessaria arrivare al 1861 per abolirla, non l'abolirono 100 anni prima, non l'abolì 100 anni prima Catarina II, è molto semplice. Se lui dice in realtà, alcune pagine dopo, e qui salto, perché mi ricordo come le sono segnate, sono i miei punti di domanda, eccoli qua. Non appena i deputati, lo si era capito già all'epoca, sempre che bisogna trovare una soluzione alla servitù della gleba, lo si era capito già all'epoca del fallimento della commissione di Catarina II. Non appena i deputati cominciarono a parlare di cose serie, Catarina si spaventò. È bellissimo come Lockman riesca a distanza di sei pagine a contraddirsi. Era pronta ad avallare il liberalismo sulla carta, ma quello autentico, non faceva per lei. E qui all'improvviso mi ha ricordato i liberali italiani, alla Capura, alla Gioliti, o alla Balagodi, se volete, i quali erano assolutamente liberali, finché il liberalismo era una cosa che si restringeva a una certa immagine. Quando il liberalismo aveva a che fare con le grandi masse proletarie, contadine, cattoliche, ignoranti, sanfediste o quello che volete voi, italiane, no, allora non era più una cosa interessante, anzi era molto meglio tenersi, il famoso liceo classico dove andavano solo i figli nostri, i figli della gleba andassero agli istituti professionali. Si lo so, ho mischiato un po' di cose, ma d'altra parte era quello che volevo fare, volevo utilizzare gli stimoli di Lockman che ci racconta il punto di vista russo, il punto di vista dell'intellettuale russo che ha vissuto praticamente tutto dal 20 al 90, il novecento europeo, metà in Russia, metà fuori e lo legge con i filtri, i valori morali, le strutture sociali della Russia e volevo utilizzarlo per guardarlo dal punto di vista nostro 50 anni dopo di quando lui scrive. Ecco, quindi vedete questo mischiarsi di cose che si ti riconosci, altre che non riconosci, che si hai capito, altre che sono completamente opposte eccetera eccetera. Franco Colacrai mi chiede di quale libro sto leggendo, come ho detto sto leggendo da un testo che è pubblicato in Italia a buon piano e si chiama Conversazioni sulla cultura russa e stavo leggendo dal terzo ciclo di lezioni che si chiama cultura intellettuale, ma merita tutto, è molto bello, è molto bello come parla, ecco da quel punto di vista non ha il livello di Selin ma decisamente queste sono conversazioni radiofoniche e televisive, l'uomo ha una colloquialità, una capacità verbale di articolazione delle frasi e strutturazione molto superiore alla mia. Quindi è molto piacevole da leggere e siccome parla abbastanza spontaneamente, niente, ti fa uscire queste riflessioni che avevo voglia di condividere. Bene, abbiamo tirato mezzanotte da me, quindi le sette da voi, la segna stampa di Liberi Oltre inizia fra un'ora, ma io vi lascio, magari leggo un po' di commenti perché li ho ignorati molto abilmente questa sera. Bravissimo, Roberto Poleser ci ricorda il giuramento di intellettuali al fascismo, quanti pochi ebbero il coraggio di dire di no. Barbero diceva che Caterina II diceva di essere repubblicana addirittura, ma ho l'impressione, guardate, se uno si legge i dettagli, ce l'ho sopra, non voglio andare al terzo piano a prendere il libro, una di queste serie giuro per chi è interessato glielo do. Comunque c'è un libro che racconta la storia in infiniti dettagli, anche perché l'autore si è documentato, un americano, ossessivamente ed è chiaramente innamorato di questa coppia. Voi sapete che Potemki, quello della corazzata Potemki, la cagata pazzesca, era in realtà un grande di Russia, un ufficiale delle guardie che diventa uno dei tanti amanti di Caterina II, seconda dopo gli Orlov, però diventa l'amante principale, a un certo punto praticamente il marito di fatto, il compagno di tutta la vita, finché lui muore, depravatissimo tra l'altro, personaggio violento, tendo francamente la sua ambizione. Questa è una cosa che più leggi, più vedi alcuni elementi affascinanti del comportamento russo, questa vitalità infinita, questo desiderio di vivere. E poi ti rendi conto che tutte le volte stai guardando la vita, la storia, la cultura di un gruppo ristrattissimo, di un'aristocrazia ristrattissima, che sfrutta tutto il resto, che la opprime e vive alla grande. E molte volte vive molto all'italiana, vivendo fino in fondo, godendosela fino in fondo, le notti, le feste, l'arte, però vivendo sulla testa degli altri. Cristiano Medei, quando parli, Cristiano Medei è un caro amico mio, quindi devo leggere quello che mi scrive Cristiano, quando parli dello pseudo intellettuale, uno strano rivoluzionario radical chic, a me viene sempre in mente un esempio storico, Tony Negri. Assolutamente. Solo che vedi, ecco, per esempio Cristiano, parlando fra me e te, come tu ben sai e anch'io so, ciò che muove Tony Negri chiaramente non è la colpa, se non la ossessiva arroganza, l'assoluta convenzione di essere un semidio. Tony Negri non si sente per niente in colpa, non so neanche quale sia la sua estrazione borghese, sì, ma i dettagli della famiglia di Negri non la so. Però appunto, la sua è una vita in cui parla del popolo, della gestione del popolo, della manipolazione del popolo, senza mai confondersi con il popolo, anzi cercando di starne il più lontano possibile. Esattamente, esattamente, cercando di starne il più lontano possibile. Igor Balasina, ciao carissimo, buon sabato, buon sabato. Vedo che alcuni si riconoscono, sì, c'è una fetta di intelligenza, c'è una certa intelligenza che viene da quel pezzo di Europa che la rivoluzione borghese e quindi poi proletaria non l'ha vissuta fino in fondo, in cui l'intellettuale è questa cosa qua e quindi in cui la descrizione che l'Hotman fa dell'intellettuale, che è basata sull'esperienza russa, funziona perfettamente. Noi ne abbiamo una parte, questa è una maniera di percepire la distanza, la differenza fra quel paese e il nostro. Noi ne abbiamo una parte, ciò che per loro è praticamente, se vi guardate davvero, se andate a guardarvi cos'è la grande intelligenza russa, specialmente del secolo XIX, ma anche dell'inizio del XX, poi dopo lo stalinismo è tutta una cosa più complicata, il dissenso eccetera, ma vi guardate quello che noi abbiamo in mente quando diciamo la grande cultura russa, che dura cent'anni. Sappiamoci, la grande cultura russa comincia con Pushkin e finisce di regalo Bulgakov, che ora bestia, perseguitato, quindi dura cent'anni, è il prodotto di un'aristocrazia che fa i conti con se stessa, che vorrebbe essere europea ma non ci riesce e che si avvita attorno a questa domanda, ma noi cosa siamo? Se siamo europei come vorrebbero, se diventiamo europei come vorremmo, abbiamo il dilemma di Caterina II, dobbiamo rinunciare ai nostri privilegi. Quindi essere coerentemente europei, francesi, luministi, liberali, democratici, quello che volete voi, liberali, vuol dire mandare pancia all'aria il sistema di potere, di sfruttamento, di oppressione che ci rende la vita così facile, così bella, tutte le tradizioni, l'esercito, il nostro status, l'enorme quantità di servi eccetera. Quindi se siamo quella roba che vorremmo essere, perché la mente ci porta a pensare che noi vorremmo essere, Schiller, Goethe, Voltaire, quello che volete voi, bisogna che rinunciamo e mettiamo in discussione noi stessi. D'altra parte, per mantenere noi stessi dobbiamo inventarci che noi siamo speciali, che c'è una russità speciale, che la natura della Russia, l'identità russa speciale e anti-europea, qui Napoleone gli offre una grande opportunità e quindi noi, noi intellettuali, siamo noi il popolo. E qui c'è il tonino e il rischio. Bene, mi fermo, magari ci torniamo un'altra sera, perché mi stavo un po' ispirando, ma è tardi. Ho tirato molto più lungo del solito, vabbè, nel senso ci sta, è anche l'ultima puntata senza abbonamento, quindi ho tirato più a lungo del solito. Però ecco, in questa contraddizione c'è un po' la storia dell'intelligenza e del dibattito fra slavofili, europeisti, la generazione del dodici, tutto. 150 anni di storia russa, dal 1750-60 alla rivoluzione leninista bolshevica e c'è la grande contraddizione che non risolta e di cui oggi vediamo certi effetti, di cui oggi vediamo certi effetti. Vabbè, ci ritorneremo. Approfitto, seguendo un consiglio di uno di voi, per ringraziare i nuovi abbonati. Paolo Perron, in chiusura Paolo Perron, c'erano prima, mamma mia quanti commenti che ho saltato, Giovanni Zadra, Ugo Gambardella, la cara Lena Torre, Pietro Sferruzza, Rocco Biscione, Sergio Fritelli, Cristina Gambirasio, Igor Ballasina, FP e basta per oggi. Bene, e niente, allora arrivederci a lunedì mattina, passate un buon sabato e una buona domenica. e niente, per quelli che sono interessati alle discussioni filosofiche, in questo caso che sono interessati a Robert Musil, ci si vede alle 5 e mezza ora vostra di oggi con Adriano Palma che ci racconterà le sue letture di Robert Musil. Grazie e buona giornata. Ciao, ciao.